Vogliamo cercare di portarlo anche ai ragazzini più piccoli o anche a persone più adulte che vedono le portano, di mettersela in campo anche se vanno agilosi da soli. Portate sempre la mascherina nel loro lavoro di ambasciatori della prevenzione Covid, promuoveranno il rispetto delle regole. Partendo dalla più semplice, sono i giovani della consulta provinciale degli studenti, primo gruppo coinvolto nel progetto ideato dalla prefettura di Lucca. I ragazzi seguiranno un corso di formazione organizzato con la ASLA. Al termine saranno incaricati di diffondere la cultura della prevenzione al di fuori della scuola, in famiglia e tra gli amici. Due le ragioni per cui si è pensato proprio a loro per il ruolo di ambasciatori. Sia perché i ragazzi hanno una forza comunicativa straordinaria, sia perché con i ragazzi vogliamo mettere in campo una contronarrazione. Non è vero che i ragazzi sono poco inclini a rispettare le regole. Dall'inizio della pandemia nel Lucchese sono state controllate oltre 150.000 persone. Solo nel 2% dei casi si sono rilevate infrazioni alle norme anti-Covid. Ma la repressione, sottolineano ambasciatori e prefettura, non basta. La cultura della prevenzione deve crescere in tutti. Anche una sola persona che trasgredisce le regole vanifica l'impegno di tutti quanti.